Buongiorno a tutti, in tanti mi chiedono come mai ti piace così tanto il Beagle, cosa ci trovi di bello, perché l'hai scelto, perché lo consiglieresti. Allora, il Beagle è un cane per me eccezionale, con un Beagle non avrete mai problemi di salute, non hanno problemi alle alte temperature, non hanno problemi alle basse temperature, non hanno problemi di gestione particolari. Sono cani veramente ben strutturati, sani, di buon carattere, non avrete problemi nella convivenza con altri animali, non avrete problemi a portarli fuori se incontreranno altri maschi, altre femmine. Beagle sono cani estremamente socievoli, se ben gestiti sono cani anche facilmente addestrabili, nessuno vi dirà mai che il cane è troppo grande, perché comunque la taglia è di taglia medio piccola, non avete le difficoltà che ci possono essere nella gestione di un cane di taglia piccola, quindi avete un piccolo grande cane, dal carattere socievole, indiscutibilmente bello, un cane intelligentissimo, per me il Beagle è veramente il cane perfetto. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.